Una grande mobilitazione che coinvolgerà tutti indotto e appalti, metalmeccanici ed edili, lavoratori del turismo, dei trasporti, dei multiservizi. I sindacati sono pronti, la manifestazione si farà prima dell'insediamento del prossimo governo che sarà chiamato a prendersi le proprie responsabilità. Il vasto arcipelago Exilva di Taranto con i lavoratori della metalmeccanica, dell'impiantistica, dei servizi, dei trasporti e dell'edilizia prepara una nuova protesta a causa della insostenibilità della situazione originata dalla più complessiva crisi di acceglierie d'Italia. Nella silenzio più totale intorno avvertiamo più che mai, rilevano i sindacati in una nota congiunta con in prima fila FIM, FIOM, Wilma e USB, la possibilità di un vero e proprio corto circuito di uno degli anelli più deboli del sistema, rappresentato dagli appalti e dall'indotto. La terribile condizione di sofferenza rischia di far deflagrare una bomba sociale senza precedenti, affermano, aggiungendo che gli impianti sono in uno stato comatoso ed i lavoratori continuano ad operare in condizioni di disagio continuo. Siamo dinanzi ad un momento delicatissimo, concludono tutti i sindacati, che in attesa che le risorse messe a disposizione dal governo si traducano in fatti, deve vedere un'assunzione di responsabilità da parte dell'azienda, tale da contemperare i diritti sacrosanti dei lavoratori.